Il Comune di Milano conferma il sostegno ai commercianti danneggiati dalla prossimità ai cantieri della linea 4 della metropolitana, in costruzione da Linate a San Cristoforo. I nuovi contributi, per un totale di 550 mila euro, andranno a toccare sia la parte in conto capitale che quella corrente e saranno concessi in modo graduato e differenziato, dando la precedenza agli esercizi commerciali che hanno una o più vetrine affacciate sulla strada e dunque impossibilitati a godere, proprio in ragione della loro collocazione, delle misure previste dal decreto rilancio. Gli assessori allo sviluppo economico e al bilancio del Comune di Milano, Alessia Cappello ed Emmanuel Conte, hanno sottolineato che i lavori della M4, così come le restrizioni alle attività commerciali dovute alla pandemia, hanno messo a dura prova decine e decine di esercenti, a partire da chi, con negozio fronte strada, non ha potuto usufruire di altre agevolazioni, ad esempio ampliando gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico all'esterno del negozio. I contributi previsti adesso da Palazzo Marino andranno dagli 8 ai 15 mila euro e vi si potrà accedere, partecipando all'avviso pubblico che sarà online entro la prossima settimana. Il provvedimento di sostegno alle imprese con negozio in prossimità dei cantieri dell'M4 è stato adottato per la prima volta nel 2016, rinnovato per tutti gli anni successivi, ha permesso di aiutare 276 attività per una cifra complessiva di 5,9 milioni di euro.